Oggi abbiamo un grande ospite, con un grande ospite dobbiamo andare a parlare di e-commerce e lo faremo con uno dei massimi esperti in Italia sul tema, siamo contentissimi di ritrovarlo a Cultura Digitale, SEO e founder di e-commerce school, consulente, formatore, imprenditore e autore Francesco Chiappini, bentornato a Cultura Digitale e benvenuto live insieme a noi a Cultura Digitale. Ciao Francesco! Grito, come state? Bene, bene, grazie. Ciao Francesco, ciao. Benvenuto, benvenuto. Allora, Francesco, partiamo subito e parliamo di e-commerce, approfittiamo della tua esperienza proprio per condividere un po' di Cultura Digitale sul tema. La pandemia ha letteralmente mezzo sotto i riflettori questo tema, il tema dell'e-commerce, generando una corsa agli armamenti. Adesso tutti vogliono fare e-commerce, al posto dei calzini ti fermano e dico «Oh, ma tu ti vuoi fare e-commerce?» e quindi ci vedono una possibilità di rilancio per le aziende. Quali sono i consigli che senti di condividere con gli imprenditori che ci stanno ascoltando e che vogliono iniziare a vendere online? Sicuramente tanti. Il primo è quello di pianificare al meglio e capire che tipo di e-commerce fare. Infatti oggi ci sono diverse possibilità per iniziare a vendere online, possono essere più o meno strutturate. per esempio si può fare e-commerce a livello locale, si può fare e-commerce a livello nazionale oppure internazionale e con diversi modelli di business. Un errore che commettono in molti, per esempio nel retail, è quello di andare a duplicare pari pari il proprio modello di business offline all'online, senza rendersi conto che la competizione non è più di quartiere, non è più legata alla mia città, ma è nazionale, può essere internazionale, dove tanti player vanno a promuoversi sugli stessi canali. Quindi è importante davvero differenziarsi e capire che è necessario essere attrattivi rispetto all'offerta già presente. Inoltre è bene armarsi anche di pazienza, perché l'e-commerce non è un investimento a breve termine, ma necessita di tempo e di competenze per crescere e andarsi a consolidare. Le opportunità ci sono, ce ne sono davvero tante, è bene formarsi in materia, perché ci sono tante peculiarità e competenze di settore che sono da conoscere, non è detto che se si è un buon imprenditore sull'offline, si può essere sin dal giorno dopo parimenti anche sull'online. Infine, consiglio di considerare degli opportuni investimenti, specialmente su progetti più strutturati o su larga scala, che necessitano appunto di tempo e budget per portare risultati, e non seguire necessariamente le mille sponsorizzate ed offerte low cost che promettono risultati molto facili, ma che sono poi molto molto difficili da ottenere. Ecco, infine un'ottima gestione aziendale della cassa, quindi parliamo proprio di impresa e di gestione aziendale, la scelta dei fornitori, del team interno e delle tecnologie che si andranno poi ad implementare, sono altrettanto importanti appunto per una corretta startup. Se ne sarebbero tanti altri, ma mi fermo qui. Grazie, grazie, grazie davvero Francesco. Francesco, io ho un'altra domanda per te. La soglia di accesso alla vendita online si sta abbassando sempre di più. Ad esempio i social tendono a dare la possibilità di vendere in app, no? Le piattaforme di e-commerce diventano sempre più semplici da realizzare. Secondo te, il trend tecnologico ci troveremo in un futuro dove non servirà più avere un sito e-commerce prioritario? Ma già lo hai nel presente in realtà, non solo i social network, ma in generale tutti i big player oggi si stanno trasformando in ecosistemi dove il loro obiettivo è quello di non far uscire l'utente da questo ecosistema e all'interno offrire tanti servizi. Insomma, basta vedere Amazon anche come si sta muovendo con tutti i servizi che continuamente innova e inizia ad erogare al di là dell'e-commerce. Molti di questi contenitori ovviamente all'interno offrono anche la possibilità di acquistare prodotti. I social network hanno inserito e andranno a inserire sempre di più la possibilità di acquistare prodotti direttamente all'interno del social, quindi senza uscire più dalla piattaforma stessa. Lo stesso Google già in America ha portato avanti dei test, si sta trasformando sempre di più in un marketplace dove è possibile acquistare direttamente all'interno del motore di ricerca, probabilmente anche per non perdere terreno rispetto ad Amazon che sull'e-commerce, insomma, negli ultimi anni ha preso sempre più quote di mercato. Ecco, altri concetti importanti è quello legato al fatto che se vogliamo solo vendere le opportunità sono tantissime. Oggi non ci serve un sito web perché possiamo vendere per esempio attraverso i marketplace, ce ne sono tantissimi sia in Italia che in tutto il mondo. Per farlo però, anche se non abbiamo un sito, abbiamo necessità di avere un feed di prodotti tradotto, un catalogo digitalizzato che ci possa permettere appunto di essere presenti su questi contenitori, ma stiamo parlando di pura vendita. Se invece l'obiettivo è quello di creare impresa nel medio-lungo termine e quindi di lavorare sul proprio brand, allora è necessario avere un sito, portare traffico sul proprio sito attuale e cercare nel tempo di fiderizzare sempre di più gli utenti. Per chi vuole fare impresa nell'e-commerce, l'obiettivo finale deve essere quello che l'utente quando arriva sul vostro sito ci arriva perché ha cercato e trovato il vostro nome, il brand, e non perché trovava un prodotto e voi vendavate tra tanti quel prodotto stesso. Per finire, oggi le barriere di realizzazione della piattaforma si sono abbassate tantissimo, però la piattaforma è solo un piccolo satellite di tutto l'universo delle attività che dobbiamo implementare quando andiamo a fare e-commerce. Assolutamente sì. Francesco, grazie mille. Quindi praticamente c'è da presidiare tanti canali e quindi cercare di essere presenti, ma l'importanza è costruire un brand che risponda alle esigenze delle persone. L'ultima cosa, spot abbiamo proprio qualche secondo. Hai parlato di formazione e tu sei un esempio di formazione in Italia con e-commerce school. Puoi raccontarci proprio qualcosa, spot, sulla scuola e a chi è rivolto e se c'è qualcosa che è in partenza, quindi per gli ascoltatori, se vogliono approfondire. La scuola di formazione e-commerce school nasce sette anni fa, ci rivolgiamo a imprese e professionisti del settore che vogliono iniziare a fare e-commerce. Il valore aggiunto è l'esperienza imprenditoriale che mettiamo all'interno del percorso di formazione. Personalmente mi occupo di e-commerce dal 2002. Abbiamo diversi percorsi di formazione, sia di tre giorni sia più lunghi, fino a percorsi di 18 mesi per chi vuole diventare e-commerce manager. Abbiamo un calendario da qui a fine anno molto intenso con dei laboratori verticali e dei corsi di management, oltre dei verticali per i settori food e fashion. Chiudo dicendo che la formazione è importante, la consiglio a tutti per tenersi sempre aggiornati in questo settore ed essere un passo avanti ai competitor. Grazie, grazie mille Francesco. Grazie mille Francesco. Grazie per essere stato con noi.